Noi vogliamo fare sì che queste generazioni considerino l'ambiente proprio come la sostanza di stare nella crescita, nell'evoluzione, negli apprendimenti, tenendo al centro l'ambiente. In viaggio con Enstra verso un futuro sostenibile, ha infatti preso avvio Scuole Viaggianti, il nuovo progetto dedicato alle scuole che mira ad educare le nuove generazioni alla sostenibilità ambientale con azioni concrete in difesa dell'ambiente per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030. Il progetto coinvolgerà allugni, docenti e famiglie di ben 800 scuole dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado nei territori delle regioni Abruzzo, Marche, Mollise, Toscana e Dumbria. Questa scelta di andare a toccare i bambini che vanno all'asilo, che vanno alle scuole elementari, è una scelta vincente perché l'ambiente deve diventare non una scelta casuale, occasionale, deve andare a toccare la sostanziale partecipazione all'evoluzione del mondo, del mondo intero, di come ci si rapporta tra umanità e mondo, tra umanità e foreste, tra umanità e acqua, tra umanità e tutte le caratteristiche dell'ambiente. Tutte le scuole partecipanti assisteranno infine ad una rassegna di opere teatrali digitali, mentre per le scuole più attive, che avranno saputo raccontare con originalità la loro esperienza, in premio una tappa del tour della sostenibilità con uno spettacolo dal vivo con il coinvolgimento di famiglie e denti locali. Non c'è miglior comunicazione tra persone, ma anche tra età diverse e così via, che appunto quella della comunicazione di tipo teatrale, perché con lo scherzo, con la finzione, eccetera, eccetera, ma si possono mettere in campo argomenti molto seri e che scendono profondamente nell'animo di chi li ascolta.